Si è svolta presso il palazzetto dello sport Fratelli Lettieri ad Aorta di Iatella, a Caserta, la terza edizione del Torofeo Nazionale del Vesuvio di Jiu Jitsu, aperta alle categorie Bambini, Ragazzi e Sordienti, Speranze, Juniors e Signores. Oltre 400 gli atleti intervenuti per l'occasione, tra i presenti anche la Kudengoshin Ryu del maestro Giuliano Spadoni che con i suoi 14 atleti ha riportato a casa un risultato lusinghiero. 5 primi posti, 5 secondi posti, 3 terzi posti, un quarto posto, classificando la società ottava su 30 società intervenute. Un risultato eccellente, dichiara il maestro Spadoni, tutti, dai bambini fino ad arrivare alle categorie con più incontri in attivo, sono saliti sul podio, segno questo di un grande lavoro. Diversi gli appuntamenti che vedranno impegnata la Kudeng di Rieti, il prossimo è stato organizzato per il 9-10 maggio presso il Palacordoni, dove ci sarà il consueto appuntamento con lo stage internazionale Città di Rieti, occasione nella quale interverranno atleti provenienti da ogni parte d'Italia e dall'estero. Sempre il 10 maggio a Roma per l'agonismo ci sarà il Torofeo Nazionale Giovanile Dragon Ball, un appuntamento molto importante a carattere nazionale.